Fabrizio Lorieri, nuovo preparatore dei portieri del Sassuolo, come si sta preparando il Sassuolo per la grande avventura in Serie A? Beh, hanno fatto un grandissimo campionato, quindi c'è entusiasmo, è una società, da quello che ho potuto capire, che lavora molto bene con raziocinio e con scelte mirate, quindi penso che ci si stia preparando per fare un campionato per poter mantenere poi la categoria della Serie A. In attesa di capire quali saranno le mostre definitive da parte della società del Sassuolo, per quanto riguarda il portiere, si è parlato anche di Leali, un giocatore sicuramente da tenere in considerazione anche in prospettiva? Sì, soprattutto leggo questo, anche perché non siamo ancora entrati con la società e col mister di Francesco, non siamo ancora entrati proprio nello specifico per quello che devono essere i portieri della stagione prossima. C'è un portiere che ha fatto molto bene, Pomini, che ha tanti anni a Sassuolo, ha fatto un ottimo campionato e quindi adesso aspetto di poter parlare con il mister di Francesco, che adesso è in vacanza e poi è la società per vedere quelli che saranno i portieri eventualmente da affiancare a Pomini. Di sicuro Leali in generale è un portiere di belle speranze? Ci sono tanti, in serie B si sono messi in evidenza tanti portieri giovani, Leali è uno di questi, così come Bardi, così come Brignoli che ha la Ternana, Silvestri, Colombi, insomma portiere. In serie B ci sono la Manna Bari, insomma ci sono dei buoni portieri. Chiaro Leali, essendo molto giovane, è un buon portiere, sì, è un portiere di prospettiva, ce ne sono altri, ma anche lui è un portiere di grande prospettiva. Da ex portiere della Roma ti aspettavi, è stata giusta secondo te la decisione dei giallorossi di lasciare partire Stechelenburg? Ma non lo so, io penso che Stechelenburg sia un grande portiere, però come spesso è accaduto in Italia, i portieri che vengono in Italia il primo anno soffrono, ha sofferto Van der Sarra, ha sofferto Dida, ha sofferto Stechelenburg, portieri di grandissimo velo, Giulio Cesar ha dovuto aspettare qualche anno per venire fuori, faceva addirittura il terzo a Chievo, insomma c'è il campionato italiano, è un campionato difficile e per i portieri l'adattamento a questo campionato, secondo me il primo anno è sempre difficile, i portieri stranieri, quindi Stechelenburg ha pagato quello, non so se ha fatto bene la Roma a cambiare, io penso che Stechelenburg sia un ottimo portiere. La Roma però sembra voler puntare su un altro portiere straniero che è Raffael, brasiliano del Santos, lo conosci, ti convince, anche lui sarebbe il primo anno del campionato italiano? Sì, lo conosco, i portieri bravi nel mondo ci sono, Raffael è uno di questi, anche Dida era un portiere quando è venuto in Italia forte, ma che comunque ha avuto, ripeto, è sempre, secondo me, è sempre un punto interrogativo il primo anno di un portiere straniero che viene in Italia, però sicuramente avranno seguito, studiato e ha delle qualità, sicuramente, bisogna poi vedere quello che riescono a dare subito. In generale, che stagione ti aspetti dalla Roma, che ha cambiato allenatore, ha preso anche in questo caso uno straniero, insomma ci sono tante incognite? La Roma è una piazza importante, è una piazza difficile, i tifosi hanno poca voglia di aspettare, quel dubbio è questo, riuscire ad avere la pazienza di far lavorare l'allenatore, di far costruire la società una squadra. L'incognita è questa, perché ci sono comunque già degli ottimi giocatori a Roma, hanno, penso, un direttore sportivo bravissimo come Sabatini, e quindi una società forte dietro, un pubblico meraviglioso, quindi Roma ha tutte le carte regola per riproporsi a livelli alti. è che la difficoltà è che la piazza ha poca voglia di aspettare, quindi poi c'è anche la Lazio che sta facendo bene, quindi mi auguro che, insomma, possa tornare presto ai livelli che gli competono, insomma, a partire da quest'anno. Tu all'Inter sei stato il secondo di Zenga, Andanovic in qualche modo ricorda, può ripercorrere le orme di Zenga? Andanovic, secondo me, al pari di Buffon, cioè Buffon mettiamolo sempre un gradino sopra, perché rimane, secondo me, il mostro sacro in questo momento nel paramorama mondiale, però Andanovic è un portiere che si avvicina a lui, secondo me è uno dei più forti portieri del mondo, ha fatto dei progressi enormi, è cresciuto molto, è tanti anni che in Italia, ha fatto le sue esperienze, è cresciuto in un ambiente come Udine dove ti possono permettere anche di crescere in una certa maniera, e adesso a Milano ha dimostrato il suo valore, secondo me è un portiere che ha ancora grandissime margini di miglioramento e quindi l'Inter se rimane Andanovic è nelle ottime mani sicuramente sicure. La Fiorentina invece si libererà di Viviano, tra virgolette, nel senso che non lo riscatterà, è una mossa giusta da parte della Fiorentina, avresti visto bene ancora Viviano per un altro anno, Neviola? Viviano era nel giro della Nazionale fino allo scorso anno, un portiere molto bravo, interpreta il ruolo secondo me con la giusta spavalderia, nel senso che è un portiere che non si lascia, che in campo ha la giusta serenità che trasmette anche alla squadra, questa è una dote molto importante, oltre ad avere grandi qualità fisiche, è un giocatore che sa giocare molto bene con i piedi, però quest'anno forse ha patito, arrivava da un infortunio molto grave, quindi ha patito secondo me anche il riadattamento a giocare, in una piazza come Firenze, dove sicuramente lui essendo fiorentino giocava in casa e quindi si sentiva, però quando viene da un infortunio è sempre un po' faticoso riprendere, e mi sembra che poi nella seconda parte della stagione abbia fatto un ottimo campionato. Per chiudere, Agazzi può essere il portiere giusto per la Fiorentina che comunque sta guardando anche all'estero? Sì, ma Agazzi è uno di quei portieri in Italia, sotto questo aspetto qua, rispetto a un po' di anni fa, mi sembra che possiamo stare tranquilli per un po' di anni, perché ci sono portieri validi, Mirante, Consigli, Agazzi, Marchetti, cioè tutti i portieri che fino a qualche anno fa magari erano, però adesso sono nel pieno della maturità, Agazzi è comunque ancora giovane, per una grande esperienza ed è un portiere sicuramente forte. Anche Abbiati è molto esperto e Milan continua a puntare su di lui. Sì, sì, ma quando hai portieri di questo rendimento la carta d'identità conta poco. Abbiati sicuramente è anche lui un portiere che ha sempre dato grande affidabilità.